La nuova Opel Insignia 4x4 porta all'alta tecnologia nel segmento delle medie. Offre la gamma più ampia di tecnologie di vertice nella propria categoria. Oggi desideriamo parlarvi delle caratteristiche dinamiche della vettura. Due elementi rendono questa vettura estremamente sicura e agile. Il sofisticato telaio FlexRide e la nuova trazione integrale con due frizioni al posto del differenziale posteriore che permettono di avere il Torque Vectoring. La funzione predittiva consente alla trazione integrale di reagire ancora prima che il motore trasmetta la coppia al posteriore. La funzione di smorzamento dell'imbardata rende stabile la vettura nelle situazioni di sovra e sottosterzo. Tutto ciò aumenta la sicurezza ed è garanzia del massimo piacere di guida.